Uno schianto frontale avvenuto nel pomeriggio di ieri nel Mantovano, in territorio del comune di Redondesco, lungo la strada provinciale Postumia. E' quello che si è portato via due nonni di sorella, Mario Francio, di 71 anni, e la moglie Ombretta Forlani. I coniugi viaggiavano a bordo di un Fiat Doblò assieme al nipotino di 10 anni, soccorso in gravi condizioni e trasferito dall'Eliambulanza a Parma. Il piccolo si trova ora ricoverato in prognosi riservata, con traumi alla testa e alle braccia. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo viaggiava seduto in braccio alla nonna e proprio il corpo della donna gli avrebbe fatto da scudo salvandogli così la vita. Dalla ricostruzione nonni e nipote erano sul furgoncino, mentre dalla parte opposta arrivava una Volkswagen Turan con a bordo sei persone di nazionalità cinese, tra cui tre bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Secondo i primi accertamenti, la Turan avrebbe sbandato invadendo l'opposta corsia di marcia, proprio mentre stava sopraggiungendo il furgone. Tutte le altre persone coinvolte nel drammatico scontro che viaggiavano sulla Turan, tre adulti di 49, 30 e 39 anni, e tre bambini di 4, 5 e 11 anni, hanno riportato traumi non particolarmente importanti. Il conducente, l'uomo di 49 anni, è stato trasferito all'ospedale di Cremona per traumi alla testa e al torace, non sarebbe in pericolo di vita.